Ciao amici e amiche di Ballonbrite, siamo al Monviso Sporting Club nel pomeriggio della prima giornata del BNL torneo di tennis in carrozzina e siamo qua con Luca Paiardi, se ci vuoi dire un po' dei risultati di oggi, com'è andata per te, chiaramente, impressioni, non so, in generale. È stato un bel debutto oggi, per me è stato molto bello ritornare sui campi di un torneo internazionale, era un po' di tempo che non riuscivo più a giocare delle partite di un certo livello per impegni vari e questioni anche fisiche, è andata bene, ho vinto al terzo set con Mario Cabras, una promessa del tennis italiano, adesso è passato a categoria quad e speriamo che cresca ancora, ma è molto bravo e quindi sono contento comunque di essere riuscito a vincere questa partita, seppur al terzo set. I tuoi prossimi impegni quali sono dopo il torneo BNL? Ancora non ho definito il calendario estivo, di sicuro sarò a Pistoia per i campionati italiani a squadra, in squadra col mio compagno di società e di team Roberto Toso e quindi diciamo che l'estate sarà una preparazione per questo obiettivo qua, in mezzo alla quale ci saranno anche dei viaggi per attività esterne al tennis che conduco. Va bene, grazie mille.